Oggi pomeriggio alle 15 al Savini di Notaresco i biancorossi riceveranno la visita della Roma City con l'obiettivo di centrare il primo successo in campionato. C'è tanta voglia di riscatto in casa Teramo dopo il pesante capò di Fossombrone e contro i laziali sarà una sfida tra due squadre arrabbiate per aver perso entrambe al debutto. Il fatto di giocare a Notaresco e non al Bonolis è un po' può influire ma non deve essere un alibi dice Pomante. La questione Bonolis comunque dovrebbe risolversi per fine settembre con la ratifica dell'accordo e il Teramo così affronterebbe la prossima sfida in casa contro l'Avezano proprio al Bonolis. Il tecnico Pomante per oggi valuta possibili novità in formazione con il difensore Cangemi in sostituzione dell'Under Brugarello non al meglio domenica scorsa a Fossombrone mentre il centrocampistander Loncini al posto di San Severino. Prima convocazione per l'argentino Bustos. In merito alla gara il tecnico Biancorosso così si è espresso. È normale che il brutto risultato di domenica ti mette un po' di apprezzione però sono partite, sono risultati che possono avvenire. L'importante è riscattarci subito contro una squadra forti allenata da un ottimo allenatore che ha fatto categorie superiori. Non è una partita sottovalutare, è una partita da affrontarla con molta determinazione perché loro sono una squadra che giocano veramente con una pressione alta, uomo a tutto campo quindi anche l'aspetto caratteriale, l'aspetto fisico è contratto. Anche Roma City, degli ex a Genore Maurizzi, del difensore Trasciani e dell'attaccante Piccioni vuole riscattare la sconfitta casalinga di domenica scorsa con il Sora a pochi minuti dalla fine dopo essere andata in vantaggio per 2-0. La squadra romana giocherà con il temibile attaccante spagnolo Kevin Hernandez e il trequartista Thomas Pellegrini, mentre in difesa avrà a disposizione anche Mattias Cognamiglio, insomma una squadra esperta da affrontare con la giusta attenzione.